PASTICCERIA, GELATERIA, CIOCOLATERIA Tramite un corpo docenti specializzato e corsi professionali su tutto il territorio nazionale, con docenti FIP Il magazine online gratuito Sweet Journal, bimestrale, in italiano e inglese, accessibile a tutti senza abbonamento 12 siti web di settore per la comunicazione Newsletter periodica e comunicazione strategica Comunicazione e distribuzione tramite app dedicata, PC, smartphone e tablet Canale social e video della federazione, perché disponiamo di piattaforme a livello territoriale ed internazionale La certificazione di qualità per il vostro brand o prodotti mirati Posizionamento del vostro logo, storia del brand sui nostri circuiti informativi Spazi banner negli eventi, inviti, depliant, campagne pubblicitarie Essere protagonisti tramite testimonial d'eccezione con l'equipe eccellenze della federazione in Italia e all'estero Partnership strategica per eventi gestiti ed organizzati dalla federazione Realizzazione ricette, cataloghi aziendali e videoricette tramite il corpo docenti della federazione Consulenza mirata, ricerca e sviluppo in azienda Promozione sul territorio nazionale e all'estero dei prodotti e brand aziendale Tutto ciò che serve ad un'azienda che punta al futuro Con una partnership di alto profilo professionale E con una vasta rete di comunicazione attiva di ultima generazione Chiedi informazioni a sponsor Chiocciola federazionepasticceri.it E visita il sito www.federazionepasticceri.it Chiocciola federazionepasticceri.it